andiamo a leggere una poesia siamo su internet quindi ci sono i cuchi quelle roba lì una poesia di per paolo pasolini intitolata un papa non per nulla io mi chiamo papa ma lui ce l'ha con papa più dodicesimo che quello stesso del nazismo che non è stato diciamo così uno stinco di santo e la storia non è che lo ricorda come un grande della bontà e dell'umanità e dei premi nobile per la pace insomma un uomo che ha vissuto a pieno contatto con il potere in tutti i sensi la poesia che vi leggeremo che vi leggerò è una di quelle che mi colpiscono in assoluto di pasolini pasolini non è un poeta che ha grossa musicalità perché le sue poesie sono più cerebrali che ritmiche insomma leggiamola e basta naturalmente se mi parlate di questa poesia o dell'altra di pasolini in generale c'è bisogno molto di vostre riflessioni e impressioni personali più che di quello che vi dico io perché sono poesie veramente molto molto vicine a noi molto contemporanee e quello che conta è veramente capire la vostra maturità nella comprensione di tali di tali capolavori perché questa poesia è bellissima per esempio perché mi rispecchia anche pienamente per il modo in cui si rivolge a questo papa leggiamo a un papa pochi giorni prima che tu morissi la morte aveva messo gli occhi su un tuo coetaneo a vent'anni tu eri studente lui manovale tu nobile ricco lui un ragazzaccio plebeo ma gli stessi giorni hanno dorato su voi la vecchia roma che stava tornando così nuova ho veduto le sue spoglie povero zucchetto girava di noti un vecchio ubriaco intorno ai mercati è un tram che veniva da san paolo l'ha travolto e trascinato un pezzo per binari tra i platani per qualche ora resto lì sotto le ruote un po di gente si radunò intorno a guardarlo in silenzio era tardi c'erano pochi passanti uno degli uomini che esistono perché esisti tu un vecchio poliziotto sbracato come un guappo a chi si accostava troppo gridava fuori dai coglioni poi venne l'automobile di un ospedale a caricarlo la gente se ne andò restò qualche brandello qua e là e la padrona di un bar notturno più avanti che lo conosceva disse a un nuovo avvenuto che zucchetto era andato sotto un tram era finito pochi giorni dopo finivi tu zucchetto era uno della tua grande greggia romana umana un povero ubriacone senza famiglia e senza letto che girava di notte vivendo chissà come tu non ne sapevi niente come non sapevi niente di altri mille e mille cristi come lui forse sono io feroce a chiedermi perché ragione la gente come zucchetto fosse indegna del tuo amore ci sono posti infami dove madri e bambini vivono di una polvere antica in un fango da altre epoche proprio non lontano da dove tu sei vissuto in vista della bella cupola di san pietro c'è uno di quei posti il gelsomino un monte tagliato a metà da una cava e sotto tra una marana e una fila di nuovi palazzi un mucchio di misere costruzioni non case ma porcili bastava solo un tuo gesto una tua parola perché quei tuoi figli avessero una caccia tu non hai fatto un gesto non hai detto una parola non ti si chiedeva di perdonare marx un'onda immensa che si rifrange da millenni di vita ti separava da lui dalla sua religione ma nella tua religione non si parla di pietà migliaia di uomini sotto il tuo pontificato davanti ai tuoi occhi sono vissuti stabbi e porcili lo sapevi peccare non significa fare il male non fare il bene questo significa peccare quanto bene tu potevi fare e non l'hai fatto non c'è stato peccatore più grande di te e questo finale veramente uno dei dei più forti e più più crudi direi quasi della letteratura italiana quanto bene potevi fare non l'hai fatto non c'è stato peccatore più grande di te che dire senza parole ciao